cosa c'è soffra di potuto non c'è una mica notte cosa stiamo parlando corretto vedo questo questo è corretto rubro oggi parliamo di 7800 se la pari 7800 che però non ha 7800 gioco ma sono una musette pari pochi giochi ma non credo che sia riferita al numero di giochi 7800 e a che cosa ha riferito sta riferito l'hanno in cui è stato fatto esatto ma non so che è finito sapessi anche sarò 20 copie dello stesso gioco ha letto due volte lo stesso gioco quando ha fatto lo scan ah questo è drappola di jagolf di jagolf vado forse c'è sta un corre diverso da che si deve cambiare ciò che è giusto per di jagolf voglio capire cosa rodi gli attirebbe in igia e rigotto vediamo un po ah eccolo qua c'è anche troppo cazzo 1990 eccoli qua no e questo è splendido è un capolavoro veramente è capolavoro è un ninja che e sotto c'è stato ti fa anche vedere il par ti fa il par ma si può già anche il 14 easy normal e altro kamikaze poi facciamo prima un easy poi diventare kamikaze insomma tutti i suoni 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 di una volta è un bug di ninja i comandi sono sempre gli stessi giusto? no salta! ah c'ha due trance salta e attacca Ah no, e poi se premo il triangolo reset Esattamente che ne so lì E se ne so lì Ho finito gli shuriken Sì E' una mutante Ah, c'era la forzione Sì Non rovinare il mio corso Hai visto il mio corso E' vero la diciottissima buca Spizzi volevo vedere Che cosa esce E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un cale di saosho Che è la fila Sto già andando a fare più aggressi per la situazione. Mi stavano aggreddo. E' un gioco completo. Ma puoi anche mirare. Vedi giù. Prova a girare. Ci serve? E' un gioco. 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 Mi vorrei fare intrare meglio. E' un gioco. E' un gioco. E' un gioco. E' l'ha fatto. lo scompite tra. in acqua no pure il ninja invisibile oh è anche fortuna non è che il musibile è verde e si confonde con lo scherzo oh è stato stuprando sta pure il topo che ti manda tutto le pietre eh nooo è del rinforzo si stanno a stupare da tutti eh si ci stanno a stuprando così ah che sta nel deserto ha cambiato è successo nella buca eh ma ci sta nel deserto è benvenuta eh attenzio sta il e lì già non è non è visibile il giallo si ma sta un seppente è un seppente il cibo sta stuprando è un seppente eh mi vuole il dragone ah ecco il boss sempre pisso è una cosa più facile per il dragone in tre tiri oh ho fatto parte oh ho fatto parte ci sono ancora altre 7 bughi bughi altri 7 bughi no penso che adesso potrò diventare un melongic adesso vogliamo vedere qualcosa di diverso è proprio molto interessante ai vuoi continuare a voi fighiero buono E' lì è di mollettino E' lì è di mollettino C'è un po' la sala Alla lì a lì a lì sì lette l'anemutante sulla spiaggia fa l'effetto che c'è che va più lento stai camminando tra gli squali pro cabini proprio sott'acqua e tira anche l'aspetta questa è uscita pulita perché avevi fatto fino alla palla del draft fiume ci sono gli squadri sarà male quello è male coppina col mare è vulnerabile per finirci seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora devo finire il gioco a te devi finire la vita senza che lo finisce il gioco o kamikaze e vediamo vediamo se riesci più a finire sta stronzata grazie a tutti bravo oh e si e ti trovo sta arroiabile ah ti cacano pure in testa non c'è di che ti cacano in testa eh fanno anche male ma che cacero proprio proprio la doida no c'è di che cacano in testa non c'è di che cacano in testa non c'è di che cacano in testa non c'è di che cacano in testa ma che faccio io ancora il drago hai schifo hai fallito hai messo con disonore sei una merda tu è la tua speranza dovete andare a far pure il tuo onore è una merda fai schifo non ci saranno più ninja col frutti oggi se non sei più sei diventata solo una merda vabbè è stato molto interessante adesso vediamo cos'altro ci offre il 7800 la c'è la città del telefono di due oltre chiediamo il contenuto e non lo riapriamo più allora diciamo che il ninja colpo non è stato male c'è allen brigade classico asteroide centipede per tutti i classici la classica battaglia del cibo galaga ghost earth down red night mutants wall position 2 roll 1 roll 3 vabbè 2 robot troppo super skateboarding tank comment e non ci sarà anche summer games e no tutti i giochi invernali tutti i giochi invernali tutti i winter games e no ecco la la cosa è che il combo sì la musica gli soffre ecco 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 dobbiamo essere comodare 10 volte ci sono inferiore numero di joystick 2 vediamo in alcuni eventi in un evento con tutti gli eventi e tutti tutti facciamo anche cosa che tutti allora è certo quello che c'è io sono schifo di solore scegli il tuo paese uss ma parte proprio con questa la prima già sapevo del giappone mi ricordavo che faceva sentire l'inno quando non l'hanno messo la cosa più simpatica si sentiva l'inno sulla versione commodore quando l'hanno torta a dove stavano essere comodo qua sei tu due controller ok che ti prendi Ma scusa hai messo due giocatori? Sì, fai entro Sì, fai già perso Hai già perso No, non ci credo Sì, fai già sento Pregami le coma Giù, su Ma scusa hai grazie devi sparare? in su Eh, questo effetto carica, mira... Eh, lo spazio lo prende uno e questo. Poi di questo devi ridurre e devi scoprire. Bello. Ma che l'hai visto. Beh, sai che tu stava, ma non sai che l'hai visto. Mentre stanno uscendo, si fermano per sparare, così a cazzo. Perché è una roba di abilità. Fanno un po' di... devi avere un po' di quello, un po' di quello. Ok. Il vale c'è stata una cosa che c'è. Comunque ragazza. Poi dice, mentre stai giocando a calcio, puoi prendi una tacchetta da tennis. E poi metti a giocare anche a calcio. Poi ti fermi, ti vai a sedere e ti fai la partita a calcio. Wow. Ah! Figura è bene! Tutta questa è la concentrazione. Non è stato probabile, sì. Ma quando prima? Ti ho detto, metti tutti gli eventi. Io ce la saprei. Sapevi? Sì, sì. Poi potremmo scegliere l'evento. Adesso ti ha fatto scegliere l'evento. Lui ci ha messo quello più simpatico di tutti. Ci sta anche il curling. Sì, sì. E' in giardia, sì. C'è il curling o baccia? Ehm... Si vede. Ehm... 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 Grazie a tutti Ancora Finisce Ancora Non è Non è Non è Non è Non è Si sa Salute Ah è Via Trono Merda Trono Ah via Trono Esiste Si ok Vale Vai Amcori Vediamo Vediamo il po' via Giù Vediamo 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 Grazie Siamo abituati Oh Stato dal video Schifo Siamo abituati 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 per ogni miss perdi 5 secondi per ogni colpa mancate quindi ho fatto lo stesso tempo tuo però è anconi amcoli 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 ah questa insieme ma chi di combattere contro il combi del peso? dobbiamo combattere contro il te ma cos'è che si stanno guardando sulle nuvole? non so i movimenti ma io sono quello di sotto ah è stato singolarizzato è un'impegno è un'impegno avibico ok avibico, avibico non è un'impegno Questo è dei premer, come quali abbiamo, questo è di andare a tempo. Bambardo, piano 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 e poi va a prenderlo. Perché lui va sempre venuto? Non so se pare di prendere sempre questo. Così eh. Ha fatto parte abbandaggiato perché già sai come funzioni. Non sapevo mai come cazzo funzionava. Ma c'ho fatto parte da te. Oh, le... L'ho sucutato. Sì, le sono passate. Eh, addio stronzi. Che c'è? Mi vado a fare un caffè. Eh, Anconi! 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 Non vado. La 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 la. Lo taglia conto. Tu fai schifo. Vai, Dave. Eh, moffa che. Fammi vedere quali sono i comandi. Non lo so. Tentativo uno. Ah, ditto. Potresti pure fare la figura di Bambardo. Morto! Diciamo eh che ha fallito. È morto proprio. Cioè, non c'è una medaglia dal segnale a un cadavere. Ok. Ah, è morto, è morto. Eh, cosa si prova? Ah, però comunque hai fatto più di dire. Certo. Certo. Ah, c'è anche il Tentativo. Ma il Tentativo due? Io che cazzo ne so. Devi cadere in piedi. Non ci credi. È morto. Finito il gioco. Game over. Qualcuno chiama l'ambulanza. Perché? Perché fai compagnia. No, più due punti stile. Eh? Ah. Verso. Prima di due punti stile. Ah, io ho due punti stile. Ah, Croni! Ah, Croni! Ah, Croni! Ha tutto il riro su di stile. Che cazzo. È Bob. È John e Bob. Morto. Ah, morto peraltro. Eh, questo è senza verità, questo cazzo. Cazzo, sta simulando pure i freddi, eh? Eeeh! E' da tipo... Niente. Un attimo lavoro, eh? Un attimo lavoro, eh? Cazzo. Cazzo, un attimo stai così, ma non so a tutti? Ma non so a tutti. Questa è... Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'importante è arrivare al risultato. Tu hai fatto schifo. E' finito. Finito? Che cazzo. Ma non c'è il... No, non c'è. Sono solo gli sport cosili. Non c'è la carne. Eh no, non abbiamo visto anche questa Winter Games. No, vediamo cos'altro c'è a Fre Natali. E che cos'è Alien Brigade? Perché non c'è l'immagine? Proviamo questo Alien Brigade. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. la presentazione, ci sono i soldi qua, ah quella non la può fare, 1989, che cosa è che stanno? Cosa è che la posta? Bene, ci sono degli nomi, Un'immagrazione, un'immagrazione, andiamo a prendere il scioporto sono dei soldi andiamo a prendere il scioporto però con gli alieni si 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 ma credo che tu lo debba liberare sto sparandolo liberi cioè prende Operation Wolf più gli alieni a cazzo, tutto? si, però no e ho preso buff ma in più ho preso buff che ci fanno ogni tanto degli alieni a cazzo senza modi e non so se sono quasi vivi gli alieni? ma pure i soldati qua i soldati questi qua no cioè i cazzo non li devi sparare non li devi salvare devi sparare a quell'altro eh quello che ti butta il fucile di più e gli alieni e ci sta anche lo stancho è proprio quel momento perché dovevo fare oh penso benità illunile hai ucciso troppi cimini devi proteggere devi proteggere non devi ucciderli devi proteggere gli alieni dai oh sei data la corte marziale e non so ne che cazzo dovevo fare dovevi provare tu ci vedete ci vedete un po' gli alieni ah ma guarda lì l'acqua non so ne è si deve giocare alla pistola eh non so ne è che fa' questo giù Oh, che fai Oh, che fai Oh, che fai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo lavoro, Jack. In questi ordini non abbiamo capito quali sono. Quindi dobbiamo salvare e uscire gli alieni. Non si capisce. Vabbè, possiamo capirlo mettendo un altro giorno. Peccato che non si capisce. Peccato che è Operation Wolf con gli alieni. C'è Operation Wolf in più gli alieni. Per così a cazzo. Durante la guerra a Vietnam e cose ci stanno. Sono gli alieni. Il famoso Asteroids. 64. Questo è uno dei primi. Gioca nuovo. A colori. Asteroids a colori. Tutto il potenziale dell'Atari. È sempre stato dell'Atari di Asteroids. L'originale dell'Atari di Asteroids. L'originale dell'Atari. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Vabbè sono la detta alle bobbe Puoi entrare? Cos'hai per la spada? Sì 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 livello ci siamo quasi addirittura io dobbiamo usare a fare con solo sono 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 come nemmeno ci ah come c'è il tuo papà mi serve a me la pizza eh te la sei presa tu che c'hai già pieno si è comunque qualcosa che rimane livello gene eh c'è una che c'è l'età eh si ok in inglese oh 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 Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. Okay, a tutti. Grazie 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 a tutti. che? a tutti. 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 grazie a tutti. 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 ciao io ci ho dato da volte da williams 182 della williams a 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 Grazie a tutti. 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 Oh, cosa faccio? Grazie a tutti. 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 grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. vabbè. basta così. il momento di robot che cazzo sono scrisologativi So do so far So What did I spell out? ah ah e cambiador potenti Grazie a tutti. 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 Wow. Oh... 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 Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.